CERCHIAMO DI DARE A TRADIZIONE UN'ESTETICA DIVERSA Gli cambiamo un po' i connotati, quindi scomponiamo la tradizione per ricrearla a modo nostro. Buongiorno, sono Pacelli Fabio, siamo oggi al Pastificio San Lorenzo a Roma, un riassunto di tutti i viaggi dei proprietari, sono quattro soci. Il locale stile new yorkese, un po' vintage, il primo vero bistro a Roma. Questo è un locale ovviamente polivalente, noi facciamo una media di 90 coperti a sera. Ecco come vedete alle mie spalle abbiamo un bancone dove la sera serviamo tapas all'italiana, quindi tutto quello che riguarda i cicchetti, aperitivo e quant'altro, fritti, sfizzi. Mentre poi abbiamo la sala del ristorante classico dove ubicato in una zona periferica possiamo trovare il cliente ideale, il cliente gourmet che vuole fare un percorso. Magari si prende una magnum di champagne, sta qua tre ore seduto e si lascia trasportare da noi, mentre dall'altra parte possiamo trovare il ragazzo dell'università che viene, si mangia l'hamburger e via. Io inizio a 14 anni, quindi precocemente, faccio l'istituto alberghiero classico a Roma, poi vado a lavorare in molti ristoranti importanti in tutta Italia. Il primo è Nicoromito che adesso è in tre stelle Michelin, vado poi in albergo cinque stelle a Hotel de Russia a Piazza del Popolo. Dopodiché mi trasferisco al Giuda Ballerino dove rimango per cinque, cinque, sei anni. Divento secondo chef, prendiamo la stella. A quel punto mi sposto ulteriormente e decido di fare l'ultima mia esperienza importante con Riccardo di Giacinto a ristorante Alloro, una stella Michelin. Dopodiché faccio il secondo chef, un resort cinque stelle russo a Salina, capofaro Malvasia resort della famiglia Tasca. E alla fine approdo al pastificio San Lorenzo. Come dicevo prima, la nostra è una cucina di pancia molto tradizionale legata al territorio, quindi l'importante secondo me non è prendere, non è acquistare tagli pregiati, non è acquistare il caviale, non è acquistare il tartufo. Quindi lavorare solo con prodotti, tra virgolette, meno pregiati, quindi tagli meno importanti. Però allo stesso tempo non dobbiamo mai sottovalutare la qualità vera e propria della carne. Perché Bovinus Luxury? Perché Bovinus secondo me è il connubio perfetto per la mia filosofia di cucina. Quindi una cucina di pancia, come dicevamo prima, quindi di sapore, ricca di sapori, ma allo stesso tempo una cucina low cost. Quindi riusciamo a dare con il massimo del prodotto, quindi qualità sempre, tagli più o meno pregiati. E la bravura nostra è quella di esaltare questi tagli. Noi in carta abbiamo la battuta di manzetta tonnè, quindi una tartare di manzo austriaco frullata a minimo 35 giorni. Quindi abbiamo questa grassezza della carne, questa untuosità e questa dolcezza. Accostata a delle uova di guaglia, sode, una polvere di capperi, una salsa tonnata, quindi la classica tartare tonnè. Un altro taglio importante è il cabessero, quindi parliamo di maialino iberico. Pure questo cerchiamo di prendere la parte del cabessero, quindi la parte quella del collo, diciamo, della schiena. Una carne da un profilo abbastanza basso, quindi un food cost abbastanza basso, ma una massima resa poi nell'esaltazione dei sapori. Grazie a tutti.